Buonasera, bentrovati a tutti e tutti. Iniziamo oggi il terzo incontro del corso di autoformazione organizzato alla campagna Riprendiamoci il Comune. I primi due, come sapete, si sono già tenuti. Il primo era su Cassa Depositi e Prestiti, il secondo era su leggere e capire bilanci comunali, come immagino tutte e tutti sapete. Le registrazioni dei primi due incontri sono disponibili sul sito di Attacca Italia e sul canale YouTube di Attacca Italia. Sempre sul sito trovate anche la relazione scritta del primo incontro in cui ero io relatore e le slide del secondo incontro preparate da Simona Repole. Ovviamente anche questo incontro e quello successivo che ricordo non si terrà l'undici come inizialmente previsto, cioè non è lunedì prossimo ma è lunedì 18, il quarto incontro. Anche di questi due incontri poi ci sarà sia la registrazione sia la documentazione che i relatori e le relatrici prepareranno. Oggi siamo un po' di meno delle altre volte anche perché purtroppo in contemporanea c'è un incontro con Gaetano Azzariti organizzato dal tavolo No Autonomia Differenziata, purtroppo erano entrambi già organizzati, era impossibile non sovrapporli, poco male. Sappiamo che quelli che partecipano all'altro incontro alcuni di loro mi hanno già detto che poi ci guarderemo le registrazioni. Quindi ricordo che oggi è il terzo incontro, vi ripeto che il prossimo è il 18 dicembre, sempre lunedì dalle 16 alle 20 con ancora Simona Repole sulla finanza di progetto, project financing. Oggi invece abbiamo il piacere di avere Corrado Conti che è di Attacchi Italia, è un funzionario della provincia, esperto di bilanci che ci parlerà in particolare della finanza dei comuni fra PNRR e prossimo ritorno delle politiche di austerità. Come sapete quello che prima era quasi indiscutibile, cioè i vincoli di Maastricht in un pomeriggio del marzo 2020 in piena pandemia sono stati sospesi, evidentemente non erano così indiscutibili quei vincoli, è chiaro che sono stati sospesi e non aboliti perché alla religione del mercato essendo tale i dogmi rimangono, ma noi sappiamo che quando un dogma si relativizza vuol dire che tale non è che può essere discusso. Tuttavia questa sospensione che è stata prorogata fino al dicembre 2023 con il primo gennaio 2024 torna il patto di stabilità, i vincoli di Maastricht forse li modificheranno, non sappiamo ancora bene in che forma arriveranno, ma ovviamente la strada tracciata è sempre la stessa, quindi non è da aspettarsi enormi sorprese rispetto a quello che si prepara, ma di tutto questo, in particolare delle ricadute sulla finanza locale ce ne parla Corrado Conti, lo schema è quello delle altre volte, Corrado mi ha detto che terrà l'introduzione entro i 40 minuti, perché l'altra volta ho detto entro mezz'ora di introduzione e poi l'introduzione è durata un'ora e venti, benissimo perché era necessario, però diciamo Corrado mi ha detto che riesce a stare nei 40 minuti, ovviamente se allunga un attimo non è un problema e poi diamo spazio alle domande, le domande per farle ci sono due modalità, uno è asterisco e proprio nome nella chat, l'altro è che alzate la mano digitale, cioè con il tasto che c'è in basso. Io mi fermerei qui e darei subito la parola a Corrado Conti che ci parlerà di la finanza locale tra PNRR e ritorno delle politiche di austerità. Vai Corrado. Buona serata a tutti e a tutti, ecco devo dire che per evitare di essere, così di ripetere le cose che sono state dette anche negli altri due interventi che mi hanno preceduto nelle settimane scorse, soprattutto dall'interessantissimo e chiarissimo spiegazione sui bilanci degli enti locali fatta da Simone la settimana scorsa, cercherò di concentrarmi sulle cose non dette ed in particolar modo cercherò di affrontare più che il discorso del futuro patto di stabilità su cui si sa ben poco, oltretutto la Simona nel suo intervento di settimana scorsa si è già soffermata fortemente su quelli che sono gli attuali limiti e su quelli che potrebbero essere. Mi soffermerò soprattutto sul perché a mio parere la finanza locale sta andando sempre peggio e soprattutto perché gli enti locali non riescono a fare con le attuali regole una programmazione seria, non dico triennale ma neppure annuale, considerato che i bilanci triennali e annuali molto spesso diventano dei meri esercizi scolastici che vengono modificati di settimana in settimana e quindi il concetto di programmazione è un concetto che resta solo sulla carta. E poi mi soffermerò in particolare sugli impatti del piano nazionale di riprese e resilienza, userò quell'acronimo che non mi piace assolutamente di PNRR per evitare di essere più lungo, non ripeterò sempre ovviamente il piano nazionale di riprese e di resilienza, parole orribili oltretutto, e quindi cercherò di limitare il mio intervento a questo. Innanzitutto che vanno sempre peggio le finanze degli enti locali è dimostrato da quello che è successo nel 2023 e nel 2024. Nel 2023 l'assenza di risorse gestionali di finanziamento e anche i finanziamenti portati dal PNRR, quindi l'impatto che hanno avuto sulla parte soprattutto corrente, cioè sulla parte di gestione dei bilanci, hanno imposto un rinvio dei termini di approvazione del bilancio uno dei più lunghi al 15 settembre del 2023, bilanci di previsione, anche perché si sono attese la realizzazione di risorse straordinarie come gli avanzi di amministrazione o contributi straordinari promessi e mai concessi necessari per raggiungere l'equilibrio di bilancio. Per il 2024, al di là delle norme tecniche introdotte quest'anno e che avrebbero dovuto portare tutti gli enti locali ad approvare i bilanci entro il 31 12 2014, è stato approvato un principio contabile apposta sui bilanci tecnici per farli approvare tutti entro questa data. Si parla ancora del rinvio del termine richiesto da Ampia Voce, da Anci e UPI al 31 marzo del 2024, in particolar modo a causa dell'ulteriore taglio dei trasferimenti. Infatti la legge di bilancio 2024 impone un taglio di un miliardo e mezzo di euro per il quinquennio 2024-2028, in cui si richiede un sacrificio per gli enti locali di 250 milioni di euro l'anno, 200 milioni comuni e 50 le province, dal 2024 e dal 2028, questo è un taglio lineare fondato sul criterio della percentuale della spesa corrente, scusa la spesa dei servizi sociali sulle entrate correnti, comeppure si rimane, e questa volta non è stato abolito, il taglio ulteriore ogni anno di 150 milioni, 100 milioni per i comuni e 50 milioni per le province, della cosiddetta spending review informatica, che in realtà sta diventando con le modifiche dell'ultimo decreto legge approvato una spendi review simile al taglio dei 250 milioni, quindi un taglio lineare. A questo si deve aggiungere l'annuncio del massimo emendamento che verrà presentato dal governo, penso presto alla Camera, di una stretta ulteriore sulla spesa del personale, sembra che si potrà assumere uno su ogni quattro uscite e quindi si torna ai tempi bui o cupi, direbbero i romanisti, degli anni passati, dopo un periodo così in cui sembrava che si aprisse la possibilità di sostituire almeno i turnover. Questo ovviamente fa parte, ritorna quindi quel discorso del taglio del personale e la riduzione della spesa ai termini minimi che hanno di fatto, come abbiamo detto più volte nella campagna Riprendiamoci il Comune, portato, obbligato molto spesso i comuni a privatizzare i servizi, esternalizzandoli in appalti, molto spesso al massimo ribasso, quindi compromettendo la qualità dei servizi e nello stesso tempo incentivando il processo di privatizzazione di tutti i servizi, come sapete non solo quelli a rilevanza cosiddetta economica, ma anche i servizi culturali o i servizi sociali. I comuni e le province rischiamo quindi sempre di più, ancora di più con questa legge di bilancio, di non avere un futuro e non riuscire a programmare le politiche strategiche continuando a privatizzare la gestione dei beni comuni, dei servizi comunali. Oramai è da un ventennio che questo succede, ma io continuo a dire, scusatemi se mi soffermo ancora su presto, la Simona settimana scorsa vi ha un po' raccontato in maniera molto semplice e nello stesso tempo molto efficace, le regole di funzionamento attuali della finanza locale. Queste regole sono una delle ragioni, l'ho ripetuto nella campagna Riprendiamoci Comune, ma continuo a dirlo, sono una delle cause dell'incentivazione delle privatizzazioni dei servizi. Io dico sempre che è il caso di dire che nella finanza locale la forma è anche sostanza e da 40 anni periodicamente si tenta sempre di archiviare le regole di programmazione finanziaria particolari dei bilanci comunali e della contabilità pubblica per sostituire la to-cur con la contabilità privatistica alla partita doppia. Non ci si riesce mai tenendo presente che contabilità privatistica significa una contabilità orientata ad un obiettivo chiarissimo che è quello del profitto e non è invece l'obiettivo dell'interesse pubblico. Quindi è molto importante capire il perché le regole della finanza locale devono essere cambiate radicalmente anche se purtroppo la raccolta di firme sulla legge di iniziativa popolare non ha raggiunto il suo obiettivo. Settimana scorsa Simona ha detto molto bene quali sono le caratteristiche, quali sono i principi fondamentali contabili della finanza locale. Io adesso cercherò di dirvi quali sono in questa l'attuale finanza locale le cose che non vanno e che stanno sempre di più rendendo difficili la vita ai comuni e rendendo difficili soprattutto la vita a chi si oppone ancora, sono sempre di meno, alle privatizzazioni dei servizi e alle privatizzazioni dei beni comuni. Spesso bisogna fare degli esempi concreti. Si è parlato dell'introduzione del cosiddetto principio di competenza finanziaria rafforzata, cioè di una contabilizzazione delle entrate delle spese che tenesse in considerazione il risultato economico. Siccome è stato impossibile introdurre la partita doppia privatistica nell'ultima riforma della finanza locale, ricordo che di oltre dieci anni fa e che quindi è già stata più che sperimentata oramai a regime, questo ha comportato un risultato concretissimo. Sono sì diminuiti i residui passivi, cioè le spese ancora da pagare e i residui attivi, cioè le entrate ancora da accertare, da riscuotere nei bilanci, ma è aumentata a dismisura un meccanismo che la Simona vi ha spiegato settimana scorsa, cioè quello del fondo plurienale vincolato. È un meccanismo che sostanzialmente rimette sulla competenza quello che erano i residui precedentemente, con un risultato però che a mio parere la trasparenza e la leggibilità dei bilanci è fortemente peggiorata. Io lavoro, ho lavorato per più di 40 anni, 43 anni come esperto contabile negli enti locali e come responsabili dei servizi finanziari, lo dico molto chiaramente, erano più leggibili i bilanci degli anni 80 e 90 che questi bilanci che vengono fatti ora, in cui le voci finanziarie mettono assieme la competenza col fondo plurienale vincolato e soprattutto agglomerano le spese in agglomerati che la Simona vi ha spiegato, cioè le missioni, i programmi, che sono difficilmente interpretabili. È un bilancio per gli addetti ai lavori e certo se fosse spiegato, se ci fosse un bilancio partecipativo che come sapete non è assolutamente obbligatorio, questo sarebbe possibile diminuire l'impatto negativo di questa nuova contabilità per quanto riguarda la comprensibilità dei bilanci. Ma questo non avviene, non abbiamo più gli amministratori che come diceva l'altra volta una velente degli intervenuti ha detto non abbiamo più uno zangheri che a Bologna spiegava i bilanci nelle case del popolo. Mi sembra che questo fosse un intervento che mi è rimasto impresso. Diciamo così, è lasciata la buona volontà degli amministratori quella di spiegare effettivamente quello che è contenuto dei bilanci. Comunque, la nuova riforma, o meglio, la riforma della finanza locale e le attuali regole sicuramente hanno peggiorato la legibilità e la trasparenza dei bilanci. Un altro discorso fortemente negativo che è stato introdotto per avvicinare sempre di più la contabilità alla contabilità privatistica è stato quello dei nuovi fondi di bilancio. Si è parlato del Fondo Crediti di Obesigibilità. Qui si tratta, come sapete, come vi è stato spiegato, di importi che devono in qualche maniera compensare i residui attivi che hanno una difficoltà di riscossione. Secondo il mio parere, ed è un parere corroborato dall'esame di tanti bilanci, a partire da quello, per dire, dei grandi comuni che sono stati spiegati la scorsa volta, ma chi come me, la Simona o anche Vittoria hanno fatto parte della Commissione per l'Audi del debito pubblico a Napoli, lo sanno, il Fondo Crediti di Obesigibilità è diventato uno strumento per tagliare brutalmente le spese sociali. Questo per un fatto, e su cui devo dire che mi differenzio dal giudizio di molti miei colleghi, e che cioè, in questo caso, le regole contabili uguali per tutte le amministrazioni pubbliche non vanno bene. Possono andare bene, in teoria, ma hanno conseguenze fortemente negative sulle situazioni economiche e sociali di forte disparità. Anche in questo caso il detto che non è niente di più ingiusto che trattare in maniera uguale situazioni diseguali vale la pena. È chiaro che un Fondo Crediti di Obesigibilità che si basa sulla possibilità di riscossione delle entrate tributarie a Napoli è differente di un Fondo Crediti di Obesigibilità che si basa sulle possibilità di riscossione delle entrate tributarie a Milano, nel senso che molto probabilmente la percentuale che attraverso i meccanismi contabili si deve accantonare è molto più alta e accantonare nel Fondo Crediti di Obesigibilità più spese significa toglierle alle spese sociali e tagliare la spesa sociale. Lo stesso vale per un altro fondo che obbligatoriamente è stato introdotto nei bilanci comunali e provinciali, cioè il Fondo Contenzioso per le Cause in Corso, che si è andato sempre più ampliando soprattutto a causa del forte aumento del contenzioso degli enti locali, aumento dovuto sia alle questioni ovviamente di carattere urbanistico delle opere pubbliche, ma anche a tantissime altre questioni. Dovete tenere presente che la norma obbliga di fatto, sulla base di un'interpretazione della Corte dei Conti, ad accantonare in un fondo e quindi accantonare risorse correnti nel caso di probabilità di soccombenze in lite e guardate che quando le cause costano milioni di euro questo significa avere un bilancio di previsione che è fortemente sempre più rigido e che non consente di poter utilizzare le risorse, le poche che rimangono per le spese correnti, diciamo così, produttive. Per me produttivo significa spendere nel sociale, nel culturale o comunque per migliorare la qualità della vita degli abitanti del territorio. Un altro esempio di come si è cercato di introdurre degli elementi di contabilità privatistica fortemente negativo è l'introduzione di rigide ed inutili rendicontazioni economiche o patrimoniali per tutti i comuni. Anche in questo caso ci si è dovuti addirittura arrendere, tanto è vero che per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti vi è una possibilità di forte semplificazione, ma questo perché si fortemente appesantiva l'attività burocratica, oltretutto cercando di creare dei vincoli nel caso in cui questo incontro economico assolutamente fatto in maniera teorica degli enti locali avesse presentato o presentasse una perdita, anche in questo caso si dovevano accantonare dei fondi che chiaramente distoglievano le risorse dalle spese sociali. Accanto a questo c'è da dire che c'è anche un continuo aggiornamento, ve l'avevo parlato all'inizio, delle norme sulle spese del personale, che continua ad essere una spesa che deve essere nella testa del legislatore fortemente limitata. Nella proposta di legge uno dei punti fondamentali erano proprio quelli di lasciare, diciamo usi di non mettere i vincoli sulla spesa del personale, lasciando all'amministrazione nell'ambito di un equilibrio di bilancio la possibilità di decidere se gestire direttamente con proprio personali servizi oppure se darli all'esterno riducendo la spesa del personale. Ci sono stati un paio d'anni in cui la normativa ha cercato in qualche maniera di aumentare le possibilità di assunzione. Ora, come vi ho detto, nella legge di bilancio 2024 si riparla di poter assumere una persona ogni quattro, il 25% delle persone che vanno in pensione. Ricordatevi sempre, mi sembra di ripetermi, però è importante ricordarlo, che negli ultimi dieci anni il personale degli enti locali è sceso da 480 mila persone a sotto i 370 mila e soprattutto l'invecchiamento di questo personale è evidente, tanto vero che è oltre il 60% a più di 55 anni e oltre il 45% a più di 60 anni. Queste conseguenze negative ora saranno ancora peggiori. Da ultimo voglio ricordare il fatto che la nuova contabilità comunque mantiene un giudizio sull'indebitamento come mezzo di finanziamento dei enti locali molto negativo, cioè in poche parole è il diavolo per un amministratore fare un mutuo. È l'ultima delle possibilità che un amministratore ha, portandoli invece a finanziare i propri investimenti attraverso una svendita di beni immobili e delle partecipazioni nelle società pubbliche. Invece è chiaro che l'indebitamento non va considerato come il diavolo, scusate la battuta, ma va considerato come uno strumento valido, piuttosto bisogna battersi affinché gli istituti di credito, Cassa Depositi e Prestiti in particolare, ve ne ha parlato Marco nella sua lezione iniziale, non faccia più tassi che possono essere considerati usurai e faccia una politica di reale credito agevolato nei confronti degli enti locali, addirittura la smetta di fare norme tipo estinzioni anticipate costosissime e onerosissime per gli enti locali o addirittura di fare proposte di rinegoziazione che tendono solo ad allungare gli ammortamenti aumentando alla fine l'onere complessivo di quanto incide sui bilanci dei comuni e delle province. Quindi abbiamo, scusate se mi sono soffermato su questo, però è importante non solo conoscere quelle che sono le norme sulla finanza locale, come sono fatti i bilanci, ma conoscere anche che questi meccanismi che tentano anche in maniera surrettizia di rintrodurre una contabilità privatistica orientata al profitto nella contabilità finanziaria sono fortemente negative e hanno un impatto chiaramente molto negativo poi sull'attività degli enti locali che devono ridurre soprattutto le spese correnti e le spese sociali. Ecco, in tutta questa situazione c'è da dire che anche qui comincio a parlare di piano nazionale di PNRR, vi avevo promesso di non dirlo in maniera analitica, anche il PNRR guarda caso nella riforma 1.15 prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale definito accrual, è un termine inglese che significa di accrescimento, però al di là di come viene definito è l'obbligo di introdurre entro il 2026 in tutte le pubbliche amministrazioni un sistema unico di contabilità economico patrimoniale basato sul principio guarda caso della partita doppia. È uno degli elementi, assieme a tanti altri, alle privatizzazioni, alle pensioni eccetera, considerato una condizione necessaria per poter avere i fondi del PNRR e tutte le rate del PNRR. Peraltro questo discorso comporterà indubbiamente un aumento delle privatizzazioni in quanto nel quadro del raggiungimento di questo principio è indubbio che si arriverà a rendere sempre più vicina la contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale dei privati e a portare sempre di più a una politica di riduzione delle spese correnti che ha portato, ricordo, oltre alle regole della finanza locale, come è stato detto nelle ultime elezioni fatte sia settimana scorsa che da Marco la prima volta, ha portato ormai a un comune su cinque in condizione di situazione deficitaria o di predissesto e tra queste come sapete ci sono città fortemente grosse come Napoli, Catania, Reggio Calabria, Messina e così via dicendo. Scusa, Paolo, ti interrompo. Puoi dire cos'è la partita doppia e perché? La partita doppia è la contabilità privatistica, la definisco partita doppia, è quella che si studia in ragioneria, ma lo scopo è comunque quello, come sapete, di avere un conto economico che alla fine porta a un utile o comunque non a una perdita e quindi è un principio che se portato nell'ambito degli enti locali non ha nulla a che fare con il discorso di raggiungere invece quello che è l'obiettivo fondamentale degli enti pubblici, cioè quello del soddisfacimento dell'interesse pubblico. In poche parole si tende al profitto, si tende all'avanzo, cosa che peraltro già adesso in tutti i bilanci si raggiunge più che altro per motivi di precauzionalità, ma che poi diventerà un qualcosa di totalmente obbligato. In questo quadro generale che vi ho cercato di spiegare è molto negativo secondo me, per questo era importantissimo la campagna della legge di riforma della finanza locale, in questo quadro economico è entrato secondo me a gamba tesa il PNRR, che come sapete, spero che lo sappiate, cercherò di dire due o tre dati generali, è un piano che dà 194,4 miliardi di euro all'Italia, erano 191,5 prima dell'ultima revisione. Questi soldi, così come quelli destinati agli altri Stati e non solo per noi, come sapete sono raccolti dalla Commissione contraendo prestiti sui mercati e la loro restituzione, attenzione, garantita da tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea. Di questi 194,4 miliardi, 71,8 miliardi di euro sono a fondo perduto, gli altri 122,6 sono prestiti, non è che ce li danno gratis. L'Italia ha tempo 30 anni per restituire la Unione Europea con tassi di interesse più bassi rispetto a quello con cui si finanzia i mercati, ma sono tassi comunque molto più alti di quelli che, come sapete, l'andamento del tassi di interesse che si è avuto negli ultimi due anni lo indica, molto più alti di quelli con cui all'inizio si era aderito al piano nazionale, al PNRR. Cioè, in poche parole, l'Italia restituirà i soldi avuti in prestito per il PNRR con molti più oneri da sborsare. Gli enti locali, come sapete, nel PNRR hanno un ruolo fondamentale, sia perché sono i principali soggetti attuatori, perché non solo devono partecipare i bandi ministeriali, hanno dovuto e devono partecipare i bandi ministeriali predisponendo dei progetti anche che una volta ammessi devono essere, devono avere come conseguenza il bando per le gare d'appalto e poi un altro degli obblighi degli enti locali è soprattutto quello di contribuire alla rendicontazione complessiva del piano. Quindi delle attività fortemente complesse. Ricordo anche che per ricevere i soldi l'Italia deve centrare ogni sei mesi una serie di scadenze che di volta in volta consentono di richiedere l'erogazione di una delle dieci rati del PNRR. Il piano contiene tantissime riforme, una è quella appunto di modifica della contabilità pubblica, ma ce ne sono tantissime altre sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, e contiene soprattutto quelli che sono i cosiddetti obiettivi. In poche parole, l'Italia dovrà raggiungere entro la fine del 2026 la bellezza di 527 tra traguardi ed obiettivi. In termini tecnici i traguardi, i cosiddetti milestone, sono risultati qualitativi, faccio un esempio all'approvazione di una legge, mentre gli obiettivi quantitativi, che vengono definiti target, sono gli obiettivi come quello della realizzazione di opere pubblico, dell'assunzione delle figure che sono previste nel piano. Fino ad oggi l'Italia ha formalmente rispettato le scadenze per la prima rata e anche per la seconda. Come sapete sulla terza rata c'è stata tutta quella discussione, quel teatrino del giovedì, come lo chiamo io, tra governo e Commissione europea. Proprio entro la fine di giugno, e su questo lo potete trovare, si dovevano arrivare a raggiungere 27 traguardi e obiettivi per chiedere i 16 miliardi della terza rata del PNRR. Però nella relazione sullo stato di attuazione del piano, che è stata presentata il 7 giugno al Parlamento, il governo ha confermato che molte scadenze non potevano essere rispettate. Tra queste, per parlare di comuni, c'è quella sulla costruzione degli asili nido. Per fare un esempio, il PNRR può essere cambiato, tanto è vero che, come sapete, il governo ha portato delle rettifiche, tenendo presente, però senza tenere presente o meglio, sapendolo bene, che attualmente l'attività che facevano gli enti locali all'interno del PNRR riguardava un importo pari a 42 miliardi di euro complessivo. La discussione che c'è stata sui ritardi nell'attuazione del PNRR ha spesso puntato il dito, se vi ricordate, sulle carenze dei comuni, come se fossero anche in questo caso, come per il debito pubblico. Poi abbiamo scoperto che gli enti locali, come ha detto la Simona settimana scorsa, hanno un debito pubblico neanche superiore al 2% di quello complessivo. Però sono stati segnalati come la causa di tutti i mali e di fatto le risorse del PNRR date ai comuni nella prima stesura sono state fortemente tagliate. C'è da dire che sono state fortemente tagliate perché i comuni e le province non erano, né potevano essere in grado di poter sostenere questo piano. Innanzitutto una cosa di fondo. Il PNRR, come penso voi sappiate, finanzia in massima parte, in stragrande maggioranza, spese di investimento, d'altra parte derivando da risorse di indebitamento, non potrebbe che essere così nella logica europea della finanza pubblica, e non finanza se non pochissimo le spese correnti. Questo significa che gli enti locali, che ve l'ho ripetuto più volte fino alla noia, hanno forti difficoltà di personale, col PNRR sicuramente non sono riusciti a risolvere i loro problemi. Non potevano fare all'inizio, e questo chiaramente ha penalizzato gli enti, soprattutto quelli più piccoli, che non avevano professionalità o dipendenti che potessero fare i progetti, non la può fare adesso, perché, come sapete, il PNRR consente e autorizza l'assunzione solo di personale a tempo determinato, non dirigenziale, fino al 31-12-2026. I piccoli e i medi comuni, peraltro, attenzione, questo inderoga solo ad uno dei limiti della spesa del personale. tenendo presente che, oltretutto, poi arriveremo, le difficoltà di rendicontazione non consentono di pagare subito questi dipendenti, che quindi è una delle ragioni per cui ci arriveremo. Gli enti locali hanno forte esposizioni di anticipazione di cassa sul PNRR. Allora, sulle carenze del personale, è chiaro che un comune, soprattutto piccolo, ma anche i comuni più grossi, non hanno avuto la possibilità, all'inizio, di partecipare ai bandi, in secondo luogo di poter garantire bandi per gare d'appalto fatte velocemente e con criteri. Come sapete, il codice dei contratti è una delle cose più complicate nella sua attuazione che ci sono, al di là delle cosiddette semplificazioni di personaggi squalidi della politica. i piccoli e i medi comuni non sono in grado, magari quei pochi o quelli che sono riusciti a ottenere un finanziamento, di rendicontarlo. E questo porta al secondo problema, o meglio, a uno dei problemi, che è quello che il PNRR ha stabilito delle regole di forte complessità di rendicontazione. Il sistema di rendicontazione del PNRR, che si chiama REGIS, inventato dalla ragioneria generale dello Stato, è un qualcosa che veramente fa mettere le mani dei capelli. Peraltro stabilisce una complessità di rendicontazione che penso necessita di professionalità fortissime e soprattutto di tanto tempo a disposizione. Adesso però si sta verificando. E da un lato le rendicontazioni sono ancora più complesse perché ogni ministero, sapete che dietro anche i finanziamenti ai comuni e alle province ci sono i ministeri, ha delle regole sue. Questo REGIS ha delle regole di fondo, poi ogni ministero si mette il carico per cui bisogna oltretutto tenere presente anche queste regole difficilissime. Nello stesso tempo non si riesce a rendicontare e quindi le spese che vengono anticipate dai comuni, perché laddove le opere sono state appaltate e le imprese hanno iniziato a costruire i soldi, giustamente li vogliono, e i comuni e le province devono pagare, nello stesso tempo non gli entrano i soldi. E quindi da un lato le difficoltà di rendicontazione, dall'altro l'aumento dei prezzi, non dimentichiamoci che l'inflazione che c'è stata in questi ultimi due anni è il fatto che un progetto che valeva 100 non ha ricevuto integrazioni di finanziamento sufficienti per poter finanziare l'aumento dei prezzi, la revisione dei prezzi. L'effetto quindi di questi maggiori costi è stato dirompente, soprattutto quello sulle materie prime, con ritardi nel reperire le maggiori risorse, nello stesso tempo c'erano dall'altra parte delle norme, che vi faccio un esempio chiarissimo. Il codice dei contratti consente a tutte le imprese, che lo chiedono, di chiedere un'anticipazione del 30% sui lavori. È obbligatorio dargliela. Invece il PNRR ha regole per cui il comune può chiedere un'anticipazione del 10%. Solo questo, tra grandi opere, comporta delle gravi difficoltà di anticipazione di cassa, che stanno sempre più peggiorando, soprattutto nei comuni più piccoli, in cui magari la cassa, cioè la liquidità, è più bassa, e che cominciano a chiedere anticipazione alle tesorerie, quindi ad aumentare gli oneri finanziari sul bilancio. Nello stesso tempo, laddove si gioca sui ritardi nel pagamento delle imprese, perché sembra di ripercorrere quello che succedeva ai tempi del precedente patto di stabilità, cioè le imprese poi c'è una liquidità, una riduzione della liquidità delle imprese con la crisi del sistema economico, oppure inizia quello che è il discorso della forte contenzioso con i comuni o con le province, a cui vengono richiesti comunque i pagamenti, con oneri di interessi fissati dalla legge, quindi inizio del contenzioso, aumento del fondo del contenzioso, riduzione delle spese. Come vedete è un meccanismo perverso che però ha portato di fatto i comuni con queste tre forti carenze e difficoltà, personale, eccessiva burocratizzazione della rendicontazione, complessità, revisione prezzi e anticipazioni insufficienti con gravi problemi di anticipazione di cassa, ha portato gli enti locali a non riuscire più a sostenere il carico di realizzare gli investimenti per i quali si era magari partecipato ai bandi e che sono stati iniziati. È una delle ragioni per cui, utilizzando questa situazione causata da politiche governative, chiaramente, a causa di queste difficoltà, come sapete, per quanto riguarda la terza rata, sono diventate 24 su 32 le misure di difficoltà che coinvolgevano gli enti locali, per cui il governo ha pensato bene di presentare una proposta di revisione approvata dalla Commissione europea e accettata oramai in via nera ufficiale, che prevede un taglio di 13,5 miliardi agli investimenti dei comuni e delle province. Ci sono città metropolitane fortemente penalizzate per questo, cito Napoli, cito Roma, cito Torino. Questo definanziamento porta anche al mettere in dubbio che questi investimenti potranno essere poi portati alla fine. Le promesse di reintegrare i fondi tagliati dal PNRR con fondi nazionali sono promesse da marinaio, chiamiamole così. C'è un continuo rimpallo tra governo e ANCI su chi sia la responsabilità, ma poi sono i sindaci, i stessi sindaci che magari, non lo so, hanno fatto orecchie di mercante, scusate, con le proposte che volevano modificare la finanza pubblica e volevano ripubblicizzare la Cassa Depositi e Prestiti per avere risorse non onerose, sono gli stessi sindaci che poi adesso dovranno spiegare ai cittadini il perché non vengono fatte determinate opere. Chiudo dicendo una considerazione finale che secondo il mio parere, forse sono un po' pessimista, il PNRR si sta trasformando da un'occasione per i comuni si sta trasformando in un incubo per i comuni e sta aggravando la già difficile situazione che la finanza locale aveva dovuta, a mio parere, anche alle regole sulla finanza locale che si stanno adottando e che sarebbero da cambiare radicalmente, come purtroppo non si è riusciti a fare con la legge di iniziativa popolare. Sono stato, mi sembra, nei 40 minuti, io resto a disposizione per qualsiasi domanda e per qualsiasi chiarimento. Grazie. Grazie Corrado, soprattutto per la visione ottimistica che hai dato, no, ma siamo ovviamente molto d'accordo. Allora, procediamo con domande e risposte. Allora, io vedo Raffaella, poi c'è Paolo Pollicelli e poi c'è Erminio Resegotti. Ricordo interventi brevi, se sono domande andate subito al dunque, se non sono domande andate subito al dunque lo stesso. Grazie, Raffaella. Ciao, buonasera e grazie. Io ho una domanda. I soldi che non vengono, cioè se, i soldi che non vengono presi, perché non si riesce a rispettare, devono essere comunque restituiti, no? Sì. Ah, cioè non li pigli, ma li devi comunque restituire. Allora, attenzione, i soldi, i soldi che ti vengono dati, allora, i soldi che ti vengono dati dai ministeri con i fondi del PNRR e che tu non rendi conti, vanno restituiti. È chiaro che i soldi... Ma dicevo all'Europa, cioè i soldi... Ah, certo, certo. Cioè, certo, vanno restituiti comunque. Eh, sono dei mutui, eh. Grazie. Grazie, Raffaella. Paolo Pollicelli. Ciao, buonasera a tutti. Io volevo chiedere al nostro, diciamo, presentatore, Salve Corrado Marica. Volevo chiederti una cosa. Siccome, per quanto riguarda i fondi vincolati e i dubbi esiti, hai detto che praticamente riducono la possibilità, l'impatto che c'è sui rumori per quanto riguarda la possibilità di spesa e che spesso vengono confusi con una spesa corrente, invece con i spesi, con i fondi a cui dovrebbero essere destinati questi fondi vincolati. Risulta che proprio la prassi sia questa? Poi per quanto riguarda il... Faccio una serie di domande. E poi per quanto riguarda anche la contabilità economico-finanziare, no? Cioè, il bilancio preventivo che è da, praticamente, che ha impegno e limite per cui ti dice quale sono le entrate e le uscite che deve fare il comune. Poi tutta la contabilità viene a intrecciarsi, però soltanto a fine, a livello di rendiconto, con quella che è la contabilità economico-finanziare che poi va a produrre l'utile, la perdita o quant'altro come una qualsiasi altra azienda. Non ti sembra che questo sia, invece, un utile e corretto modo di gestire i fondi del comune e dare risalto anche ai vantaggi, diciamo, all'economicità di come vengono impiegati, diciamo, di come viene gestito il comune, della gestione? Seconda domanda che non ho mai sentito citare. La cosa della performance, gli OVOS, come si chiamano, gli O, gli ordini, per quanto riguarda la performance dei dipendenti pubblici, per cui c'era stata la legge in cui si obbligava i dipendenti ad avere una certa performance, per cui i dirigenti, a differenza di quelle che sono le funzioni tra l'organo politico e l'organo invece amministrativo-tecnico che è dato dalle direzioni dei vari dipartimenti, dei comuni o di vari enti pubblici, erano tenuti a fare una valutazione della performance. Poi un'ulteriore valutazione doveva essere data della performance di questi enti pubblici nei confronti di quelle che sono le aspettative e le aspettative del pubblico, perché poi i veri intestatari e i proprietari degli enti locali è la gente, diciamo, chiamiamolo il popolo, quelli che vogliono risolvere questo. Un'altra domanda, poi basta. Che fine hanno fatto i derivati dai bilanci dei comuni? Allora, ti comincio a rispondere a te quelle che ho capito così poi mi dispiace a risposta. Tranquillo. Allora, per quanto riguarda, parto dall'ultima, come si fa negli esami. Per quanto riguarda i derivati, i derivati rimangono nei bilanci comunali. I derivati rimangono nei bilanci comunali. Purtroppo c'è una legge dello Stato, lo diciamo sempre, una legge che non è mai stata abolita, una legge di bilancio del 2020, che prevedeva l'accollo da parte del Ministero delle Finanze di tutti i mutui e dei derivati contratti dagli enti locali in maniera tale che il Ministero delle Finanze potesse ricontrattarli con gli istituti, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, per ridurre quelli che erano gli oneri finanziari. Questa è una norma che c'è, non è mai stata attuata, non c'è un sindaco, scusate, cavolo, e qui mi arrabbio sempre, che protesta per questo fatto, nonostante l'attuazione di questa norma potrebbe ridurre fortemente gli oneri finanziari sui comuni. Comunque, i derivati ci sono, i derivati continuano a insistere in maniera pesante, lo sappiamo, vedo Vittorio che si è collegato, lo sappiamo ben noi dalla Commissione per l'Auto del Debito Pubblico di Napoli, come pesano, che sono oltretutto un debito, oltre che ingiusto, un debito assolutamente illegittimo, perché, come sai, i derivati venivano stipulati addirittura con diritto anglosassone, in inglese, e manco te li traducevano, e anche adesso quando li chiedi non te li danno. Quindi, purtroppo, quello rimane. Nessuno l'ha risolto, il problema, e l'unica norma che poteva risolverlo, che è quella sta sull'accollo, è una legge di bilancio del primo governo Conte, non è mai stata attuata, hanno costituito la società che doveva fare l'accollo, ma purtroppo non è stata fatta. Seconda domanda, la performance c'è, la performance c'è, attualmente poi sono complicato, perché prima c'era solo il piano esecutivo di gestione, poi è diventato il piano delle performance. Adesso si chiama Piau e contiene tutta una serie di obiettivi e di indicatori che, diciamo così, seguono le linee di indirizzo contenute nel documento unico di programmazione di cui vi ha parlato Simone la scorsa settimana e vengono tradotti. Parliamoci chiaro, però, sono in una situazione del genere, le performance performance dovrebbero riguardare non l'ordinaria amministrazione, come avviene sempre, ma dei progetti specifici, il che non avviene nella sta grande maggioranza dei casi, per cui, lo dico io, che lavoro, lavorato negli enti locali, generalmente, alla fine, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è sempre vicina al 100%, anche perché, poi alla fine, da quello dipende l'unica integrazione contrattuale che i dipendenti degli enti locali hanno, per cui, di poche spiccioli, peraltro. L'altro dimanda, rendicontazione economico-patrimoniale, io non metto in dubbio che le regole sulla rendicontazione, sul conto economico, sul conto del patrimonio, magari siano anche, rendano più chiara la lettura di un bilancio privato, in alcuni casi, rispetto a un bilancio pubblico, ma questo, comunque, non comporta che, secondo il mio parere, possono essere utilizzate per un bilancio pubblico. Ripeto, il bilancio privato, alla fine, arriva a un conto economico e a un conto del patrimonio e solo a quello. Non è, come stavi dicendo tu all'inizio, come per gli enti locali, una semplice fase di rendicontazione. È l'unico bilancio che esiste sulla base del quale tu hai un utile, una perdita, però è orientato all'ottenimento di un utile. non è orientato all'interesse pubblico e quindi al raggiungimento di obiettivi che sono obiettivi, diciamo così, di miglioramento della qualità della vita, del miglioramento sotto ogni punto di vista, e non prendono in considerazione quelli che sono i costi e i benefici sociali. noi, peraltro, abbiamo sempre insistito, come penso ti ricordi, nell'evidenziare il pareggio di bilancio sociale, del pareggio di bilancio di genere, del pareggio di bilancio ecologico o ambientale, proprio perché sono misure che ben difficilmente tu puoi quantificare in un bilancio della contabilità economico-patrimoniale privata. Io ti ho risposto a queste tre, non mi ricordo più la prima, ma il privato è che non l'ho sentita, mi è andata via la comunicazione, mi devi scusare. Va bene così, ti ringrazio. Niente, grazie a te. Grazie, allora c'è Erminio, poi c'è Valentina e poi c'è Vania. Erminio? Eh, ci sono. Niente, io, come sapete, appartengo a Giudemocrazia Italia, che abbiamo un certo obiettivo, quello di fare la partecipazione massiva e incidente nelle decisioni dei governi di tutte le pubbliche amministrazioni. E nel seguire la piattaforma Forma SPIA, che forse lei dovrebbe aver sentito dentro negli impegni del PNRR, c'è un impegno, non so di quanto è il contributo dell'Unione Europea, perché i governi delle tutte amministrazioni pubbliche, dal locale, dal comunale, dal nazionale, coinvolgono i cittadini in un Open Government che dice che vuol dire si è aperto ai cittadini, che è sicuramente in sintonia con quello che si chiama Riprendiamoci il Comune. Allora, se lei ha qualche informazione anche dal punto di vista di inserimento nella Trattativa UE di qualche discorso economico di sostegno o di non elargizione se non si raggiunge questo tipo di obiettivo. All'interno del discorso operatamente economico questa piattaforma che si chiama Decidim e che l'hanno implementata come offerta gratis a tutti i comuni per usarla in questo rapporto con i cittadini permetterebbe tra tante cose oltre informazioni trasparenti ed altro anche nel gestire un bilancio partecipativo e qui ci avviciniamo quanto meno sia pure a latere di un discorso molto più complessivo che lei ha fatto e che è molto apprezzato di poter cominciare a riprendersi il comune almeno per gestire bilanci partecipativi senza colpo ferire e senza far battaglie perché sono obbligati ad assumo tutti i comuni in teoria sono obbligati a prendere questa plataforma inserire i nostri tutti e usarla al top stanno formando funzionari per questo io ho seguito questi corsi insieme a funzionari infilato tra queste possibilità e vi garantisco che sono non sono come dire fantasie mie sono cose che varebbe la pena di valutare per fare un passo in avanti per entrare nei comuni e gestire insieme alle amministrazioni le loro decisioni chiedo se lei ha qualche notizia su questa questa area di problemi grazie Erminio vai Corrado ho le stesse sue notizie ho letto anch'io che tra i target del PNRR c'è quello del maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale degli enti locali io però mi pongo il problema se questo non rimanga semplicemente un è giusto che sia un obbligo la stessa maniera per cui noi introducevamo nella proposta di legge di iniziativa popolare un discorso di coinvolgimento diciamo così previsto dalla legge dei cittadini nelle decisioni in questo caso però questo discorso sarebbe in qualche maniera in contrasto col fatto che le stesse regole del PNRR che portano alla privatizzazione della contabilità e ad una forte di fatto ho cercato di dimostrarlo riduzione di quelle che sono diciamo così l'area discrezionale del bilancio cioè rendere sempre più rigido il bilancio e ridurre la possibilità di decisione da parte degli amministratori della popolazione è in contrasto cioè noi potremmo avere delle norme qualora fossero attuate anche se io non ho ancora notizie salvo qualche seminario che ho visto non ho ancora notizie di norme di normative che sono state sottoposte al Parlamento su questo tema noi però appunto avremo delle normative sulla carta che potrebbero aumentare la partecipazione dei cittadini e allo stesso tempo avremo dei bilanci che di fatto non lascerebbero nessuna nella sostanza nessuna possibilità di decisione effettiva e sostanziale grazie Corrado è transitorio questa situazione speriamo che speriamo speriamo che non la riducano come finanziamenti io cercherei di non interloquire troppo no no ho finito grazie allora scusate in realtà c'è prima vagna di Valentina e Valentina in realtà ha scritto chiederei se possibile un piccolo approfondimento sulla questione del definanziamento però prima c'è Vania che vuole fare una domanda quindi Vania poi c'è dopo c'è Gianni allora buongiorno buonasera a tutti non so perché non mi parte il video mi sentite si si ti sentiamo ok perfetto in realtà sono tre domande ma veloci la prima vorrei sapere lei ha detto che il turno adesso probabilmente tornerà ad essere un un assunto ogni quattro uscite ma prima era stato modificato io l'ho rimasta ad un assunto ogni cinque dismissioni mi ero persa una modifica in positivo se ho ben capito che c'è stata e che starà per essere tolta l'altra cosa è che di cui vorrei avere conferma ma le regole cioè le modifiche alle regole per la composizione dei bilanci comunali regole che sono diventate sempre più cervellottiche ed infernali volte a limitare comunque la spesa sociale discendono direttamente dall'Europa o sono anche regole che si sono dei nostri legislatori ma sempre per rispettare i vincoli europei la terza domanda posto che purtroppo la raccolta firme delle leggi di iniziativa popolare per modificare i bilanci comunali non è andata a buon fine ma l'anci visto che i comuni sono organizzati in anci se volesse potrebbe in un qualche modo intervenire fare pressione e ottenere dei cambiamenti fine prima domanda turnovere solo un secondo corrado grazie intanto a Vagna se poi rispondi anche a quella di Valentina che chiede un approfondimento sul definanziamento e già che ci sei Ernesto dice ma quando tu dici noi a chi ti riferisci ok vai scusa anche qui comincio dall'ultima noi quando ho detto noi che proponevamo la legge scusami Ernesto se ti riferivi a questo io mi riferivo alla campagna di riprendiamoci il comune che era due proposti di legge di iniziativa popolare per noi intendo tutte le associazioni che hanno sostenuto questa questa campagna e che non ha raggiunto il numero di firme ecco intendo questo grazie a te per quanto riguarda allora le domande allora turnover turnover io ti ho detto quello che è l'ultima versione che ho letto venerdì delle maxi emendamento che prevede uno ogni quattro però Vagna può anche darsi che lo cambino ancora non lo so perché ecco è sicuro però attenzione una cosa attualmente allora prima c'era il divieto quasi il divieto assoluto di assumere fortissimi limiti dell'assunzione del personale tanto è vero che c'è stata quella riduzione del personale di cui ti dicevo oggettive poi sono stati provati due decreti uno per il comune uno per le province che consentivano di assumere sulla base dell'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti degli ultimi tre anni ok e questo consentiva soprattutto purtroppo solo da alcuni comuni non quelli in difficoltà economiche di assumere di garantire comunque il turnover e adesso però si sta tornando a questo soprattutto pericoloso che si pensi sempre che il personale è una spesa che va ridotta e non si lascia invece l'autonomia al singolo ente di decidere spendo sul personale non spenderò in appalti ecco comunque può anche darsi che alla fine abbia ragione tu che poi sia uno ogni cinque non lo so non lo so adesso vediamo questo è l'ultimo coletto che come tutti noi prendiamo da questi diciamo così consulenti che secondo me sono quelli che fanno le leggi per poi guadagnarsi su e fare corsi di aggiornamento scusami scusa la battuta secondo il discorso dell'Anci discorso dell'Anci e l'Anci potrebbe sì fare molto poteva fare molto ripeto ancora perché ci tenevo molto anche sul discorso di dare una mano sulla raccolta di firme sulla legge di iniziativa popolare l'Anci purtroppo a mio parere è diventata penso ormai da vent'anni una dependanza del governo nel senso che purtroppo non ha più non diventa più una rappresentanza dei comuni ma politicamente lo sto dicendo sta diventando sempre più un'associazione che tenta di introdurre alcuni piccoli correttivi senza voler cambiare salvo ovviamente poi fare la voce grossa quando ci sono tagli sproporzionati oppure così intervenire magari tagliano 100 riescono a far tagliare 80 ecco la seconda domanda era quella sul scusami sul legislatore scusa sulle leggi cioè da chi discendono i vincoli di bilancio direttamente dall'Europa o sul nostro legislatore è chiaro che l'Europa col patto di stabilità stabilisce delle percentuali il patto di stabilità vecchio non so se lo riproporranno adesso stabilisce una percentuale di quello che è il deficit rispetto al PIL stabilisce diciamo così delle percentuali come arrivarci però ogni singolo stato decide il patto di stabilità interno tra enti locali e governo mica c'era da tutti i comuni d'Europa non c'era da tutte le parti tanto è vero che poi è stato modificato anche qui sotto forma di rispetto dal comparto e non dei singoli enti e soprattutto non andando a prendere quelle che sono ad esempio le spese di investimento che lì è stato veramente una cosa demenziale che ha portato conseguenze negative non solo per i comuni ma anche per l'economia quindi le regole vengono decide cioè come nessuno ci ha obbligato a mettere nella Costituzione il pareggio di bilancio che secondo me è una cosa stupida molto stupida nello stesso tempo nessuno ci dice che noi dobbiamo raggiungere i parametri che sono comunque ovviamente parametri assurdi da cambiare attraverso le norme che ci sono state propinate fino adesso che ci saranno propinate anche negli anni successivi per quanto riguarda il discorso del definanziamento il definanziamento è stato il fatto che sui 43 miliardi iniziali che erano previsti e che vedevano a favore diciamo così vedevano i comuni come segetti attuatori c'è stato un taglio di 13,5 miliardi che ha riguardato alcuni obiettivi tra cui oramai ne hanno parlato tutto quelli sull'asilo nido ma hanno riguardato la cosa più rilevante da un punto di vista generale è quello che riguarda l'edilizia e la rigenerazione urbana tanto è vero che i tagli maggiori come vi dicevo li hanno avuti o i comuni di Napoli Roma Torino per quelle per tutti quei progetti che tendevano ad una riqualificazione chiamiamola così di quelle che erano le periferie da Scampia tutte le periferie romane e così via dicendo il problema vero è che molti comuni erano già partiti che avevano avuto un primo diciamo così affidamento di fondi erano già partiti con le gare per cui si trovano adesso nella migliore delle ipotesi ad averle solo bandite per cui si può anche non affidarle nella peggiore dell'ipotesi significa dover rifinanziare con un governo che promette di ridare i soldi che ha tagliato ma che francamente in questa legge di bilancio non ha messo nulla una domanda sui LEP sui livelli minimi di spesa spesa storica è consentita o siamo fuori campo scusa beh l'hai fatta comunque direi che però i LEP riguardano anche il discorso delle regioni e riguardano tutto il discorso del finanziamento della spesa di carattere anche sanitario che è diciamo così il luogo più fortemente in cui più fortemente questo criterio viene applicato non riguarda anche perché come ha spiegato settimana scorsa la Simona la finanza regionale si basa su regole simili ma non un po' differenti sotto questo punto di vista e nella finanza regionale è chiaro che per quanto riguarda i LEP c'è il discorso dei trasferimenti statali che devono essere fatti e che chiaramente applicando un criterio oppure un altro applicando criteri di definizione dei LEP oppure un altro possono rappresentare effettivamente diciamo così un cambio radicale per un bilancio delle regioni insomma come può essere però ripeto questo è un discorso che magari poi riguarda il discorso poi dell'autonomia differenziata che diciamo così anche questa è un'altra di quelle riforme che entra a gamba tesa per quanto riguarda la finanza locale o comunque la finanza pubblica e che produrrà gravi danni secondo il mio parere a quello che sarà il futuro soprattutto in alcune regioni ovviamente sto dicendo delle banalità scusami Paolo ma è così ripeto poi sull'EP diciamo il PNRR non è che metta molto becco sotto questo punto di vista anche perché come sai riguarda la gestione dei servizi e che quindi riguarda la spesa corrente no perché avevo letto studiato che praticamente se voi siete stati al comune di Napoli eccetera negli anni 2013 14 così venivano usate per il finanziamento e bilanci preventivi che facevano questi comuni venivano usati come parametri la spesa storica che faceva il comune e quindi la riforma che era stata fatta dall'arconet dalla commissione dell'arconet eccetera aveva lo scopo di fare in modo che questa spesa rientrasse riducendogli questo parametro della spesa storica ora io non mi ricordo bene era era un corso universitario che avevo seguito su l'economia dei comuni ma non mi ricordo bene come disse il professore il professore era Mussari non so se la conosci come e ci disse che praticamente avevano fatto in modo che non ripetessero più questo aggravio di spese perché andava sempre ad aumentare la spesa e quindi non rientravano mai non so se guarda ti dico subito che questo criterio si capisce che l'ha lasciato in cantina perché nel taglio che vi ho detto all'inizio il famoso un miliardo e duecentocinquanta milioni in quattro anni cinque anni anzi che vennero fatte comuni si usa ancora il criterio della spesa storica cioè si usa il criterio dell'incidenza della sostanzialmente della spesa storica tutta la spesa corrente escluso questo può essere positivi quella che è la missione 12 i programmi della missione 12 che sono quelli dei servizi sociali però non hanno non hanno cambiato i criteri purtroppo bene siccome non ci sono altre richieste io intanto ringrazierei Corrado per la chiarezza dell'esposizione come sapete eh sia la registrazione che la relazione che Corrado si è impegnato a scrivere verranno poi pubblicate sia sul sito di Attac che sul canale youtube di Attac noi ci salutiamo l'appuntamento poi ve lo rimandiamo a un attimo che vedo Mariangela che chiede di parlare no no volevo solo dire veramente a Corrado grazie infinite perché stiamo come Attac Torino ma anche come gruppo spontaneo di base che sta seguendo le questioni di bilancio che ha reso chiarissimo davvero alcuni aspetti che ci preoccupano della butoli così tra i 100 milioni di crediti di accantonamenti per crediti non esegibili 248 milioni di interessi speculativi sui derivati arriviamo a quasi 500 milioni di euro che il comune rinuncia rinuncia a incassare e che regala agli evasori e alle banche e i meccanismi che Corrado ha spiegato sono talmente chiari che aspetto solo che ci mandiate la registrazione per farla girare e far capire alla gente quanto ha sbagliato a non darci le firme a suo tempo per le due leggi di iniziativa popolare Corrado sei stato bravissimo e grazie per questa grazie a te per tutto quello che fai a Torino grazie scusate c'è ancora una domanda di Erminio poi chiudiamo molto semplice volevo aggiungere a titolo informativo quindi tre minuti massi che questa piattaforma è già in essere come esperienza pilota che ha generato la revisione dello statuto di Roma di Torino e di Milano di Mirandro di altre realtà e quindi non è un'utopia ancora da concretizzare da zero è già operativa a livello loro la chiamano sperimentale farà diventare generalizzata e c'è tutto ormai una strada percorribile senza troppo sforzo tutto lì ecco solo perché forse uno pensava che fosse un po' campata per aria il nostro relatore bravissimo ma ha analizzato il PNRR in un settore di sua attività molto interessante e questa voce mi diceva che era un po' ai margini della sua informazione allora per questo ho integrato che se sono tanto di materiale che si può accedere e vedere che non è per il momento aria fritta è un impegno che però loro cercano di non far uscire da una certa area perché se tutti i comuni avessero quella tipologia di operatività molti sindaci farebbero salti per aria perché evidentemente non lo vedono molto positivamente però vi è ragione di che non stiamo qui a spiegare ecco solo per dire per dire storicamente a che punto siamo non partiamo da zero c'è già molto e dobbiamo riempire tutti i comuni con quello strumento per me è l'obiettivo per riprenderci il comune grazie 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 erminio allora ci salutiamo l'appuntamento come ricordavo all'inizio è non per lunedì prossimo ma lunedì 18 sempre alle ore 18 e chiudiamo il corso con il tema del che cos'è il progetto di finanza meglio conosciuto come financing project e perché è pericoloso è uno strumento che viene sempre più utilizzato dai comuni e non solo dagli enti pubblici in generale capiremo meglio che cos'è e perché è un altro degli strumenti che vanno combattuti buona serata a tutte e tutti e arrivederci fra due lunedì ciao a tutti